Musica Cari amici di WeTrading bentornati sul nostro canale youtube prima di iniziare vi ricordiamo di iscrivervi al canale per poter ricevere le notifiche in tempo reale o di andare sul sito wetraining.eu e seguirci o tramite social o tramite telegram in modo tale da non perdere i nostri prossimi articoli vi ricordiamo che l'ultimo articolo parla del drawdown e quindi oggi volevo fare un breve video per farvi vedere tecnicamente quando utilizziamo l'MT4 che cosa vuol dire drawdown vado a simulare questo tipo di trading andando a utilizzare un expert che abbiamo per farvi vedere proprio che cosa vuol dire il drawdown questo expert è basato sul nostro indicatore wheelpoint e adesso vedremo, attendiamo, diciamo che vengono aperte delle posizioni e vi faccio vedere che cos'è il drawdown innanzitutto quindi simuliamo come se avessero delle posizioni ecco ad esempio si sono aperte le posizioni meno 50, meno 60, meno 80 euro quindi abbiamo aperto 8 posizioni, non so quanti sono, 10, 12 e c'è un saldo negativo questo saldo negativo è il nostro drawdown cioè il rischio che stiamo subendo, tra virgolette che stiamo sopportando in base al nostro capitale quindi ad esempio 1200 euro su 1000 euro sono il 20% 100 euro sono il 10% eccetera eccetera questo tipo di rischio lo possiamo valutare benissimo quando abbiamo la curva del drawdown e del profitto quindi balance equity la differenza in pratica quando la blu sta sopra e la verde sta sotto è il drawdown quindi in questo caso ad esempio siamo in un drawdown che sta crescendo perché il nostro capitale è fisso qui a 1017 ma in realtà l'equity è 708 quindi ci sono 300 euro di drawdown se andiamo qua lo notiamo c'era stato un piccolo di 300 ora è un po' recuperato quindi il drawdown bisogna andarlo a intendere proprio su questo tipo di logica il valore e il rapporto tra l'equity e il balance che cosa succede al trader che vuole sistemare queste cose? beh innanzitutto deve trovare in base alle combinazioni quella che potrebbe essere migliore anche alle A ad esempio il mio è un Ea molto speculativo quindi in H4 visto che già abbiamo fatto un 30% di drawdown in M30 magari ne fa di più o di meno quindi andiamo a vedere la prova tutte queste prove le dovreste fare anche voi perché in base ai vostri sistemi sia manuali che automatici dovreste capire qual è il miglior time frame poi se non è questione di time frame sarà questione di input cioè di parametri quindi andare a gestire i parametri è un altro elemento la ricerca dei migliori parametri o del miglior time frame che abbia almeno uno storico abbastanza lungo noi stiamo valutando un capitale di 1000 leva 1,33 dal 2015 ora quindi cerchiamo di avere uno storico di 3 anni e passa in modo tale da subire diversi tipi di logiche di movimenti ecco qui ad esempio ha aperto le prime posizioni seconde aspettate troppo veloce ma da qua lo capiamo ecco ci sono delle posizioni aperte il drawdown è andato e sceso a 981 quindi 12 qui il drawdown aveva avuto un picco maggiore siamo a circa 15 euro di drawdown poi drawdown un po' minori perché? perché mi accorgo che la verde dalla blu si distacca molto meno il drawdown è quando la verde sta sotto la blu non quanto sta sopra perché quando sta sopra abbiamo invece un profitto infatti chiude e va in profitto quando sta sotto invece c'è il drawdown quindi quando utilizzate i backtest guardate se la verde va sotto la blu e se questa differenza è esagerata perché se è esagerata vuol dire che state rischiando troppo più rischiate più il sistema sarà impossibile diciamo avrà sarà impossibilitato a generare profitti perché se perde 300-400 euro su 1000 e non li ha chiuse prima che riesca a recuperarle ha bisogno di fare tanta fatica tanto lavoro e magari vi richiede tanti soldi guardate qui il drawdown adesso sta crescendo di nuovo quindi il drawdown è proprio questo l'elemento che va al rapporto tra l'equity cioè l'equity che è la verde e il balance qui ad esempio abbiamo avuto circa 200 euro penso da un equity di 968 a un balance di 1076 sono 100 e passa euro ok ora finché stiamo a un drawdown del 15-20 direi anche 25% a seconda delle strategie se è specialmente una strategia aggressiva va bene ma se il drawdown inizia ad essere superiore al 25% sia se avete strategie aggressive sia se avete strategie non aggressive io direi che fosse il caso di rivedere un po' tutto tutta la logica quindi l'automazione o la manualità nel trading deve essere sempre rapportata al drawdown ad esempio per questo tipo di EA io fino a un 20-25% lo accetto di drawdown perché so che è un EA molto aggressivo ma se non lo accettassi vuol dire che non devo fare questo tipo di operatività qui ad esempio sta crescendo di nuovo il drawdown ok ora se non mi piace questa configurazione perché magari vado a rischiare troppi soldi vedete 500 euro no non fa per me allora il secondo punto potrebbe essere quello di andare a guardare i tre vari parametri ad esempio avevo forzato la visione di uno dei parametri quindi lo vado a rimettere come era prima e vediamo se in questo modo risolvo il problema perché magari in quest'altro modo riesco a ottenere un minor drawdown quindi gli studi che si fanno possono essere di questo tipo quindi un po' manuali oppure si prosegue con le ottimizzazioni cioè una serie di calcoli fatti automatico dal calcolatore che va a sostituire diversi parametri e vi dice quello migliore eccetera eccetera potete fare l'uno o l'altro questo metodo che uso io è sicuramente più lento però vi dà la possibilità di capire specialmente nella parte iniziale quali sono le variabili più influenti poi si prosegue in altro modo la seconda parte del backtest deve essere fatta a mio avviso su capitale reale ma con lotti piccoli per almeno due o tre mesi successivamente si può passare a una diciamo valutazione più sostanziosa quindi magari su capitali successivi se tutti i step gli step precedenti sono tanti passati ecco guardiamo questo è il drawdown quindi 70 80 50 20 ora si sta riducendo ad esempio ad essere una posizione positiva e via dicendo quindi più è negativo peggio è per il nostro expert ok quindi niente l'idea era solo di farvi capire bene il drawdown lo inserirò nel questo video nell'articolo che trovate su retrading dal titolo drawdown come sopravvivere e tornare eventualmente a guadagnare grazie a tutti per la visione a presto e buon trading